Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna si segnalano 3 km di coda in direzione Firenze e 1 km di coda in direzione Livorno. Spostandoci in A1 fino alle 18 di oggi, tratti chiusi per lavori tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma e tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. Sempre per lavori, tratti interdetti e veicoli pesanti di massa superiore a 7,5 tonnellate tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in entrambe le direzioni. Ancora in A1 in direzione Bologna, rallentamenti per un incidente avvenuto al km 314 tra Incisare, Gello e Firenze Sud. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!